Naturalmente Bella e la Saponaria aprono un nuovo centro estetico, proprio qui dove si trovano il laboratorio e lo spaccio della Saponaria. Questa collaborazione nasce proprio per la passione e per la natura. Noi siamo naturalmente bella, la natura la portiamo nella bellezza, nel benessere. Questo centro è specializzato nel viso, nel corpo e nella mente, visto come essenza dello studio nella naturopatia, in senso olistico. Usiamo anche molti trattamenti orientali, dallo shatsu, medicina ayurvedica, medicina cinese. Tutto il nostro staff di Naturalmente Bella collabora a questo progetto e grazie alla condivisione con Saponaria di questo progetto si è realizzato. Noi abbiamo un altro centro che è Naturalmente Bella a Montelabate, esiste da 12 anni. Io ho 30 anni di esperienza in questo campo, mia figlia un po' meno, però anche lei ha una ventina d'anni di esperienza. Abbiamo due ragazze in gamba che collaborano con noi da una decina d'anni. Abbiamo deciso di fare una settimana tutta aperta, tutta gratuita, per proporre le cose che noi facciamo qui all'interno. Siccome erano tantissime, tutte in un giorno non si potevano elencare. Ogni giorno abbiamo un evento gratuito, sempre a supernotazione, delle cose che facciamo qui all'interno del centro. Abbiamo l'analisi della cellulite con una lastra termografica, quindi andremo a analizzare tutto per bene la cellulite, i suoi stadi, che stadio è, la ritenzione idrica e tutto quanto. Poi andremo a fare l'analisi, il dermoscan della pelle del viso, quindi tutto quello che c'è da sapere sulla propria pelle del viso, in che stato è e come va curata. Poi c'è la giornata della naturopatia, la giornata dello shatsu, con una mini dimostrazione del massaggio shatsu, riflessologia plantare che è tanto richiesta, poi ci sono anche quella del viso, essendo tanto richiesta, abbiamo fatto due giornate perché è full, tutto pieno e niente, praticamente abbiamo voluto omaggiare, fare una settimana di inaugurazione proprio per far vedere quello che noi facciamo nel nostro centro, perché sono veramente tante cose. La sede è in via dei trasporti 3 a chiusa di Ginestreto e oggi ci prepariamo per il pomeriggio di inaugurazione il taglio del nastro con le istituzioni locali e con tutte le persone, le ragazze e i ragazzi dello staff. Saponari è diventata una grande eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza nel solco della sostenibilità, nel solco della natura, dei prodotti naturali, è cresciuta tanto e l'abbinamento di un centro estetico con quei prodotti è una bella innovazione, è una bellissima idea ed è la dimostrazione che poi le imprese contaminando si possono crescere e dare nuove opportunità alla clientela, quindi in bocca al lupo alle ragazze che gestiranno questo centro estetico, davvero molto bello e insomma siamo molto contenti per ogni volta che c'è qualcuno che intraprende, significa che scommette sul futuro e noi abbiamo bisogno di una città che continua a scommettere su se stessa.